Ciao da Laura Sabrina, ciao da Lello Pirrone, vi aspettiamo al Teatro Sant'Artemas, Monteluscello, via Modigliano numero 2. Il giorno 13 di aprile si festeggeranno i 30 anni di carriera del cantautore Salgo Pirrone con la partecipazione di Lello Pirrone. Interverranno i seguenti artisti, Mario Daniele, Luigi Ivone, Natalia Bianca, Lino Mirabella, Ivan Celestino, Peppino Di Bernardo e Laura Sabrina. Con la straordinaria partecipazione di Nello Amato e tantissimi altri ospiti a sorpresa, presenteranno la serata Mr. Poppy e Barbara Abini. Ci sarà anche la ripresa televisiva effettuata da X. Papi, Fonico, Savio De Vito, direttore artistico Armando Danapoli, per info 349 13 62 367, oppure 346 08 59 921 081 80 43 906, prezzo del biglietto, adulti 12 euro, bambini dai 7 ai 12, a soli 6 euro. Durante la serata la direzione offre anche il buffet. Per prenotazioni del biglietto rivolgersi alla direzione di X. Papi. Un abbraccio, un saluto da Lello Pirrone, da Laura Sabrina. Vi aspettiamo in tanti. Vi aspettiamo in tanti.